Buonasera, come annunciato, questa sera abbiamo la prima puntata della serie La Chiapa dei Bunker, o meglio la prima parte della prima puntata, che è dedicata a Massimo Polidoro e al caso Kennedy. Come sapete Polidoro è il segretario nazionale del CICAP, l'organizzazione fondata da Piero Angela ancora negli anni Ottanta. Prima di parlare del caso Kennedy però, parliamo un attimo meglio di Polidoro, perché questo non è un personaggio qualunque saltato fuori dall'oggi al domani dall'uovo di Pasqua. Massimo Polidoro è una vera e propria creazione di Piero Angela, che negli anni Ottanta lo ha affidato a James Randi per essere formato a fare il debunker. James Randi, come abbiamo già detto, è un illusionista e prestigiatore americano che un giorno ha deciso di mettersi a fare il debunker. È in realtà Randi il padre del debunking moderno, nel senso che tutte le tecniche più conosciute del debunking, quelle che abbiamo affrontato nella puntata scorsa, cioè il falso problema, ignorare i fatti appurati, la supercazzola, noi siamo la scienza, mandare a vedere, eccetera, derivano tutte da lui. Bene, è lo stesso Piero Angela che ci racconta di aver riconosciuto Polidoro quando era giovane e di aver riconosciuto il suo talento e di avergli dato 10 milioni di lire per andare in America a studiare le tecniche del debunking da James Randi. Sentite la clip. Quasi contemporaneamente ricevo una lettera da un giovane diciottenne di Voghera che dice ma senza, ha detto il suo libro, ma qui bisogna fare qualcosa, bisogna... ed ecco allora i volontari. Ho capito che lì bisognava avere una macchina che dal basso lavorava con dei volontari. È venuto a Roma perché in quel periodo c'era James Randi e ho detto a Randi, senti un po', guarda un po' questo giovane, che ti pare? E noi sono stati insieme quei tre giorni e alla fine ho detto guarda questo qui è un ragazzo intelligentissimo, capisce subito le cose che altri non capiscono. Allora massimo 10 milioni per andare... Quindi quando voi vedete Polidoro non state vedendo uno qualunque, state vedendo il figlio illegittimo di James Randi e di Piero Angela, i due re del debunking mondiale. Quindi non dimentichiamocelo mai, Piero Angela ha finanziato Massimo Polidoro perché andasse a studiare le tecniche del debunking da un mago illusionista, quelli che per mestiere ingannano le persone con i loro trucchi sul palcoscenico. Perché questo in sostanza sono i debunker. Bene, adesso che sappiamo con chi abbiamo a che fare, dedichiamoci al caso Kennedy. È un caso che io ho studiato a fondo una decina di anni fa, quando ho frequentato per un lungo periodo il forum johnkennedy.it di Federico Ferrero e Diego Verdegiglio. Ferrero e Verdegiglio sono i due debunker italiani più preparati in assoluto sul caso Kennedy e io su quel forum mi sono letteralmente fatto le ossa, nel senso che ho discusso con loro su ogni possibile aspetto dell'omicidio Kennedy. Ed è proprio discutendo con loro, fra l'altro, che ho scoperto quali siano i veri punti deboli della versione ufficiale, che non sono sempre quelli che vi raccontano le trasmissioni tv. Ma questo lo vedrete dopo. Tornando a Polidoro, anche lui da bond e bunker ha affrontato spesso il caso Kennedy e di recente ha dedicato anche un video a questo argomento intitolato Kennedy fu un complotto? Lo trovate su YouTube. Il video parte con una serie di affermazioni generiche che servono a inquadrare storicamente l'omicidio Kennedy, il periodo storico, la situazione politica, il viaggio a Dallas, i nemici che Kennedy si era creato, eccetera eccetera. Poi Polidoro entra nel dettaglio e comincia a darsi da fare per sostenere la versione ufficiale, ovvero che lì Harvey Oswald sia stato l'assassino solitario del presidente Kennedy e che abbia sparato da una finestra del sesto piano del famoso book depository, il deposito dei libri che si trova in Dilly Plaza, la piazza in cui fu assassinato Kennedy nel 63. Nonostante la forma a catino della piazza provochi echi ingannevoli, il punto d'origine degli spari viene subito individuato. La polizia entra nel deposito dei libri, un agente ferma sulle scale e un giovanotto che si muove rapido, ma il direttore dell'ufficio lo riconosce. Lo conosco, è un nostro impiegato, dice. Si chiama Lee Harvey Oswald e da poco lavora lì. Il poliziotto lo lascia passare. A sesto piano si scopre il nido del cecchino, una finestra con un fucile di precisione abbandonato, un Mannlicher Carcano di origine italiana. Una finestra con un fucile di precisione abbandonato, un Mannlicher Carcano di origine italiana. Due bugie in un colpo solo. Prima di tutto non c'era nessun fucile abbandonato accanto alla finestra. Accanto alla finestra vengono trovati solo tre bossoli, tre cartucce usate. Il fucile viene trovato solo in seguito, dopo una lunga ricerca, nascosto in mezzo a pigne di scatole di libri dalla parte opposta dello stanzione del sesto piano. Seconda bugia, la più importante. Il fucile ritrovato non è affatto un Mannlicher Carcano 6.5 di fabbricazione italiana, ma un Mauser 7.65 di fabbricazione tedesca. Basta ascoltare le news di Ramatte immediatamente dopo per confermare che il fucile inizialmente trovato al sesto piano del Buchdepository era un Mauser 7.65. Oltre a queste, c'è la testimonianza diretta di Roger Craig, il vice sceriffo di Dallas, che ha assistito personalmente al ritrovamento del fucile. dal passato con il cuore. Il fucile di Frizz, riflessorio. Il fucile una un'attivata, e si chiama il fucile nella portiera. Il fucile aveva un하uncato con la portaria, nei suoi guardiammi di Frizz. Il fucile invece con l'attivata di Frizz, non ci inchi dalla portaria. e stampato right on the barrel of the rifle was 7.65 Mauser. Quindi il fucile ritrovato era un Mauser tedesco 7.65 e non un carcano italiano 6.5. Perché è importante questa differenza? Perché svela in un solo colpo l'intera messa in scena del famoso nido del cecchino. I bossoli trovati vicino alla finestra infatti erano quelli di un carcano che non sono compatibili con il fucile Mauser. Quindi quei tre proiettili fanno chiaramente parte della messa in scena, sono stati messi lì apposta. Solo più tardi, quando gli investigatori si accorgono del pasticcio, ecco che allora anche il fucile ritrovato diventa il Mannlicher Carcano per farlo combaciare con i proiettili. Ma le testimonianze del ritrovamento del Mauser rimangono. Però queste cose Polidoro si dimentica di dirle. Ricordate la tecnica numero due dei debunker? Ignorare fatti appurati. Ora uno potrà domandarsi, magari Polidoro non l'ha fatto apposta, non è ben informato sul caso Kennedy e pensava che avessero trovato subito un carcano. A parte che se sei poco informato su un caso così importante, fai a meno di parlarne e vai a raccogliere i cavoli in campagna, ma Polidoro sa benissimo queste cose. Perché lui stesso ha scritto un libro sull'argomento e quindi conosce molto bene il caso Kennedy. Guardate, se ne vanta pure. Io stesso ho dedicato alla vicenda una bella fetta del mio libro Grandi gialli della storia, ma anche questo ormai è introvabile. A parte che quando dice che il libro è introvabile, a me viene in mente la famosa battuta di Aldo Giovanni e Giacomo e ci sarà un motivo. Ma a parte le battute, è chiaro che Polidoro non può non sapere queste cose. Chiunque abbia studiato il caso Kennedy per più di venti minuti sa che il fucile ritrovato inizialmente era un Mauser. Quindi perché Polidoro mente fingendo di ignorare queste cose? Perché a lui fa comodo propagandare la tesi di Oswald, assassino solitario. E sa benissimo che se rivela la questione del Mauser, la sua tesi affonda in cinque minuti. Quindi, onestà intellettuale di Polidoro, diece lode. Andiamo avanti, vediamo lo spezzone che Polidoro dedica all'arresto di Lee Harvey Oswald. Perché se hai un capro espiatorio da incastrare, poi devi trovare anche il modo di arrestarlo, giusto? Ecco la clip. Alle 12.45 l'edificio viene perquisito e i dipendenti radunati in una stanza. Manca solo Oswald. Mezz'ora più tardi, dopo una rapida caccia all'uomo, il presunto cecchino viene arrestato dopo una collutazione nel cinema dove si era nascosto. Mezz'ora più tardi, ci dice Polidoro, dopo una rapida caccia all'uomo, il presunto cecchino viene arrestato dopo una collutazione nel cinema dove si era nascosto. Detta così, sembra che Oswald fosse già stato individuato come assassino di Kennedy e che gli stessero dando la caccia in tutta la città per quel motivo. Ma solo nei film di guardie ladri succedono queste cose. Nei film il ladro scappa e prima o poi la polizia lo prende. Ma nella vita reale le cose sono leggermente più complicate, specialmente quando c'è di mezzo l'assassinio di un presidente. Prima di tutto nessuno poteva avere già individuato Oswald come assassino di Kennedy perché nessuno lo ha visto sparare. E quindi come hanno fatto per incastrarlo? Secondo la versione ufficiale, Oswald, dopo aver sparato a Kennedy, torna a casa e si mette tranquillo a guardare le notizie al telegiornale come tutti gli americani stavano facendo in quel momento. Poi di colpo decide di uscire per fare una passeggiata e per precauzione prende una pistola con sé. Durante la passeggiata lo ferma un poliziotto, un certo Tippit, il quale gli chiede i documenti. A quel punto Oswald estrae la pistola, uccide il poliziotto, scappa e si nasconde in un cinema dove entra senza pagare. Questa è la versione ufficiale, ricordiamolo. Non è una barzelletta. La cassiera giustamente preoccupata chiama il proprietario del cinema e gli dice guardi che è entrato un tizio senza pagare. Il proprietario del cinema a sua volta chiama la polizia e la polizia manda una pattuglia per controllare il signore che non ha pagato il biglietto. Cioè con tutto quello che c'era da fare in quel momento ad Allas con un presidente ucciso ve la vedete voi la polizia che si preoccupa di uno che non ha pagato il biglietto al cinema? Ma la polizia arriva puntuale sul posto e arresta Oswald. E come fanno a capire che quel signore è proprio quello che ha ammazzato il poliziotto Tippit? Perché naturalmente mentre sparava a Tippit a Oswald è caduto il portafoglio con dentro la sua carta d'identità. Ora, a parte che se aveva i documenti addosso non si capisce perché non li abbia mostrati tranquillamente al poliziotto invece di sparargli in testa. Ma poi non vi ricorda niente questa storia del documento d'identità trovato vicino al luogo dell'omicidio? Vecchie abitudini dell'FBI che evidentemente hanno fatto scuola. Quindi, grazie al documento trovato accanto a Tippit la polizia collega Oswald con l'omicidio del poliziotto e così ha un buon motivo per arrestarlo. Soltanto dopo averlo arrestato in questura si rendono conto che lui lavorava al book depositore di Dilly Plaza e quindi Oswald viene incriminato anche per l'assassinio di Kennedy. Ecco come Lee Harvey Oswald viene trasformato da uomo che non paga il biglietto al cinema ad assassino di Kennedy tramite una trappola sottilmente congegnata nella quale gli hanno detto di recarsi in quel cinema per un qualche motivo dopodiché hanno fatto fuori i Tippit e hanno dato la colpa a lui per avere una scusa per poterlo arrestare. Tutta questa macchinazione di Oswald che esce da casa con la pistola e se ne va in giro per la città e si fa casualmente fermare da un poliziotto che gli chiede i documenti ma lui invece gli spara è una barzelletta che non sta in piedi ovviamente. Ma siccome questa ridicola macchinazione dell'omicidio di Tippit non fa che mettere in evidenza come Oswald fosse chiaramente il capro espiatorio cioè la vittima prescelta a cui dare la colpa dell'assassinio Kennedy ecco che il nostro polidoro ci racconta semplicisticamente che dopo una rapida caccia all'uomo il presunto cecchino viene arrestato nel cinema come nei film di Guardia e Ladri appunto. Nuovamente tecnica numero 2 ignorare fatti accertati per far sembrare più plausibile la tua tesi. Altro esempio di tecnica numero 2 ignorare fatti accertati Polidoro nel suo video cerca di spiegarci come la testa di Kennedy abbia potuto andare primi in avanti e poi all'indietro al momento dello sparo fatale visto che teoricamente il proiettile di Oswald arrivava da dietro. Per darci questa spiegazione Polidoro usa il classico esperimento del melone che abbiamo già visto migliaia di volte in televisione. Nel filmato che fu il perno di tutte le indagini sul caso Kennedy si vede la testa del presidente prima chinarsi in avanti coerentemente con uno sparo dal deposito di libri e poi rimbalzare l'indietro inducendo molto a pensare che qualcun altro avesse sparato dal davanti o di fianco. In realtà quel movimento è stato dimostrato poteva essere provocato anche da uno sparo alle spalle. Il primo Nobel Luis Alvarez nel 1976 lo descrisse come un effetto jet confermato in seguito dai sperimenti balistici su cadaveri la rapida fuoriuscita dalla massa cerebrale avrebbe insomma spinto indietro la testa. In questa ricostruzione ricreata in modo molto semplice ma chiarissimo dal duo comico Penn & Teller si vede come un melone colpito dal proiettile di un fucile non cade in avanti come si potrebbe pensare spinto dall'urto della pallottole e invece spinto all'indietro dalla rapida fuoriuscita della polpa che schizza sul davanti all'uscita del proiettile. Certo se il cervello fosse uscito da davanti allora teoricamente si può anche immaginare che la testa sia schizzata all'indietro per reazione. Il problema caro Polidoro è che la testa di Kennedy sia aperta da dietro non da davanti. Ci sono ben 14 testimonianze del personale medico dei dottori degli infermieri dell'ospedale che hanno descritto chiaramente come Kennedy avesse un grosso buco sul retro del cranio. Ci sono le fotografie di tutti questi testimoni i quali uno per uno indicano praticamente lo stesso punto in cui hanno visto il pezzo di cranio mancante. Quindi caro Polidoro se il cervello è esploso da dietro vuol dire che il proiettile è entrato da davanti no? Ma tu queste cose le sai benissimo naturalmente solo che fai finta di ignorarle ti fermi a farci vedere il giochino del melone ma ignori completamente di parlare di tutti quei testimoni. Pensate una cosa curiosa già otto anni fa quando frequentavo il forum di Ferrero e Verdegiglio Polidoro aveva scritto qualcosa di simile sul colpo alla testa di Kennedy e io avevo fatto una domanda a Ferrero da girare a Polidoro guardate conservo ancora la schermata salve Ferrero vedo che ti sei dimenticato di citare la mia domanda a Polidoro sui 14 testimoni che videro il foro nella nuca di Kennedy come mai? come vedete dalla data era l'aprile del 2011 siamo ancora qui che aspettiamo la risposta quindi Polidoro invece di giocare con i meloni spiegaci tu tutti quei testimoni se ne sei capace veniamo adesso all'altra specialità dei debunker il falso problema che in questo caso prende la forma del proiettile magico si tratta di una questione arcinota che ha coinvolto migliaia di ricercatori i quali si sono buttati a capofitto per discutere se fosse possibile che un solo proiettile potesse entrare dalla nuca di Kennedy uscire dal collo entrare nella schiena del governatore che stava seduto davanti a lui uscire dal petto del governatore e conficcarsi nella sua coscia questo è anche il problema centrale sollevato dal film JFK di Oliver Stone ma è un finto problema in realtà perché è assolutamente risolvibile sanno tutti benissimo che non è possibile dimostrare con certezza assoluta che un solo proiettile non potesse fare tutti quei danni né è possibile dimostrare che li potesse fare siamo nel campo dell'ipotesi e quindi trattandosi di un falso problema il nostro Polidoro ci si butta a capofitto perché sa benissimo che da lì comunque non si potrà mai uscire con una verità precisa nel 2003 la rete televisiva americana ABC ha reso pubblica una ricostruzione tridimensionale frutto di dieci anni di lavoro dall'esperto di balistica Dale Myers basandosi su un'analisi fotogramma per fotogramma del filmato di Zapruder e calcolando le dimensioni della Dilly Plaza Myers ha ricostruito una visione a 360 gradi della scena dell'assassinio l'analisi che naturalmente i complottisti contestano conferma che i colpi potevano provenire solo dal sesto piano del deposito di libri e che le ferite e i movimenti dei corpi di Kennedy e Connelly potevano essere stati causati da uno stesso proiettile bravo Polidoro hai dimostrato che un solo proiettile poteva almeno teoricamente fare tutti quei danni ma il problema vero del caso Kennedy non è il secondo proiettile il cosiddetto proiettile magico ma è il primo quello che è andato a vuoto e Polidoro sa benissimo che esiste un primo proiettile andato a vuoto perché lo nomina di passaggio mentre introduce il secondo ascoltate la clip infine la questione chiave poteva come sostiene la commissione Warren un solo proiettile il secondo visto che il primo colpì un passante e fu ritrovato sul marciapiedi allora intanto non è vero che il primo proiettile colpì un passante e fu ritrovato sul marciapiedi come dice Polidoro altrimenti sapremmo che proiettile era e potremmo stabilire da quale fucile è stato sparato invece il primo proiettile non venne mai trovato e non colpì affatto un passante ma colpì lo spigolo di un marciapiede fu poi una scheggia del cemento del marciapiede che andò a graffiare sul viso questo passante che si chiamava James Tague ecco dove si trovava James Tague al momento dell'attentato lo si vede in questa foto scattata subito dopo la sparatoria Tague si trovava sotto il triplo ponte della ferrovia all'imbocco del sottopassaggio dalla parte opposta della piazza è lo stesso Tague a raccontare quello che gli è successo in questa intervista ora questa è Dilly Plaza vista dall'alto questo è il Book Depository e questa è la finestra del sesto piano da cui sarebbero partiti i colpi il famoso nido del cecchino come lo chiama Polidoro e questo è il triplo sottopassaggio sotto la ferrovia James Tague si trovava qui fra il secondo e il terzo sottopassaggio ora il problema è questo al momento del primo sparo la macchina di Kennedy si trova più o meno in questo punto davanti al Book Depository sotto le finestre di Oswald questo significa che per sparargli Oswald avrebbe dovuto mirare verso il basso dalla sua finestra del sesto piano questa è la visuale della finestra di Oswald la limousine di Kennedy al momento del primo sparo si trova qui sotto prima degli alberi mentre James Tague si trova là al sottopassaggio come fa uno che spara praticamente sotto la sua finestra ad andare a colpire un passante che si trova dalla parte opposta della piazza bisogna essere ubriachi per avere una mira così schifosa da mancare non solo Kennedy ma l'intera limousine impossibile direte voi no? attenzione perché nulla è impossibile per i debunker che cosa ti inventano i nostri amici a questo punto? Oswald ha sparato sì verso il basso ti dicono ma il proiettile ha colpito un ramo dell'albero ed è stato deviato in modo da arrivare fino al sottopassaggio ora a parte che solo un cretino aspetterebbe a sparare proprio quando Kennedy è nascosto dall'albero o gli spari prima quando lo vedi ancora oppure aspetti a sparare dopo che è passato sotto l'albero quando torni a vederlo bene chi è l'imbecille che spara proprio mentre il bersaglio è nascosto dall'albero ma poi c'è un secondo problema io ho chiesto a diversi esperti balistici e mi hanno confermato che è praticamente impossibile che un proiettile che viaggia a 600 metri al secondo quindi con un'energia cinetica enorme possa essere deviato da un semplice ramoscello casomai si spezza il ramo oppure il proiettile gli si pianta dentro ma divenire deviato e conservare comunque un'energia sufficiente da arrivare a staccare il cemento sotto il marciapiede è praticamente impossibile e se anche questo fosse possibile c'è comunque un altro problema che rimane a tutt'oggi irrisolto e cioè dopo la testimonianza di Teig l'FBI ha rimosso il pezzo di marciapiede e lo ha fatto analizzare e sapete che cosa hanno scoperto? che su quel marciapiede c'erano tracce di piombo e di antimonio ma non c'era nessuna traccia di rame cosa vuol dire questo? vuol dire che il proiettile che ha colpito il marciapiede non è partito dal manniker carcano di Oswald perché i proiettili del carcano sono camiciati con il rame hanno cioè una copertura in rame che si chiama camiciatura mentre il proiettile che ha colpito il marciapiede era un proiettile scamiciato cioè diverso da quelli sparati dal carcano io stesso quando mi trovavo sul forum di Ferrero e Verdegiglio posi loro la questione è possibile chiedevo che un proiettile che parta camiciato perda la camiciatura per strada dopo essere stato deviato dal ramo di un albero ovviamente la risposta è no come dicevo io per sicurezza ho chiesto la consulenza ad alcuni esperti balistici ed ecco cosa mi ha risposto Francesco Zanardi istruttore di tiro della polizia di stato anche se ammettiamo che ci sia stata una deviazione della traiettoria sicuramente è impossibile che urtando un ramo il proiettile perda la camiciatura o una parte di essa quindi quindi abbiamo davanti agli occhi la dimostrazione del complotto anche volendo ammettere che il proiettile sia stato deviato dal ramo cosa di per sé già altamente improbabile abbiamo comunque un proiettile scamiciato che quindi non può essere partito dal fucile di Oswald si trattava di un proiettile diverso partito da un fucile diverso ecco perché il primo proiettile è così importante ed ecco perché tutti i debunker fanno finta di niente e spostano la vostra attenzione in modo spasmodico sul secondo proiettile cioè il proiettile magico perché sanno benissimo che dalla discussione sul proiettile magico non se ne uscirà mai comunque con una verità definitiva mentre se dovessero affrontare il primo proiettile ecco che tutta la favoletta di Oswald assassino unico casca in un solo secondo Polidoro ti rifaccio pubblicamente la stessa domanda che feci ai tuoi amici Ferrero e Verge Giglio diversi anni fa come fa il primo proiettile ad essere partito dal fucile di Oswald visto che A avrebbe dovuto seguire una traiettoria praticamente impossibile e B che era un proiettile scamiciato rispondi a questa domanda invece di far fugliare a vuoto sul proiettile magico bene fin qui nel suo video Polidoro si è occupato degli aspetti tecnici dell'attentato o meglio balistici cioè il fucile ritrovato il movimento della testa all'indietro il proiettile magico eccetera poi nella seconda parte del suo video Polidoro si è misurato con il tema più ampio del complotto ovvero i possibili mandanti ed esecutori affronteremo la seconda parte la prossima settimana e vedete che è proprio lì che casca l'asino con grande fragore sulla questione degli esecutori materiali dell'assassinio buonasera e benvenuti su ControTV come annunciato questa sera abbiamo la seconda parte del servizio su Massimo Polidoro e il caso Kennedy nella prima parte abbiamo visto come Polidoro abbia affrontato le questioni balistiche dell'assassinio Kennedy o meglio come non le abbia affrontate spostando tutta l'attenzione sul secondo proiettile ed evitando accuratamente di parlare del primo nella seconda parte del video Polidoro ha invece affrontato il tema dei mandanti e del possibile complotto per farlo ha usato la classica tecnica del minestrone dove si butta dentro un po' di tutto roba seria e roba meno seria in modo che il pubblico alla fine non ci capisca niente citare mille possibili mandanti tutti insieme è come non citarle nessuno vediamolo in azione in questo splendido esercizio di confusione intenzionale le teorie cospirative immaginate dietro l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy hanno proposto diversi possibili mandanti vediamo i principali il presidente cubano Fidel Castro per vendicarsi dei tentativi della CIA di eliminarlo ma il presidente USA potrebbe essere stato vittima anche della comunità anticastrista delusa dall'appoggio al loro fallito sbarco a Cuba alla Baia dei Porci nel 1961 il vicepresidente Lyndon Johnson per prendere il posto di Kennedy ma anche la CIA e soprattutto l'FBI con il suo ambiguo capo J. Edgar Hoover minacciato di rimozione la mafia combattuta da Robert Kennedy responsabile della giustizia nel governo federale i petrolieri texani preoccupati per un progettato aumento delle tasse sui loro introiti il Ku Klux Klan nemico giurato della linea di Kennedy contro la segregazione razziale il Pentagono e i militari contrarre all'ipotesi del ritiro americano dal conflitto in Vietnam il KGB il servizio segreto sovietico desideroso di rifarsi dallo smacco subito dopo la crisi dei missili cubani sono tutti potenziali candidati validissimi tutti avevano buoni motivi per volere morto il presidente ma il fatto è che non sono mai emersi elementi concreti prove o documenti a loro carico ma il fatto è che non sono mai emersi elementi concreti prove o documenti a loro carico certo Polidoro se facciamo eccezione per tutte le persone che hanno già confessato di avere partecipato all'omicidio Kennedy stai sicuro che non è mai emerso niente ma qui ci vuole veramente una faccia come il tuo sedere per affermare una cosa del genere lo sanno anche i paracarri ormai che gli assassini di Kennedy hanno un nome un cognome e soprattutto hanno dei mandanti molto precisi e cioè il connubio criminale mafia e CIA con la partecipazione silente di Johnson da una parte e con la complicità del capo dell'FBI J. Edgar Hoover dall'altra ma il nostro debunker il grande allievo del prestigiatore Randy fa sparire tutte queste testimonianze con un colpo di bacchetta magica e ci continua a raccontare la favoletta che non sono mai emerse prove a carico dei mandanti fra l'altro avete presente quando i debunker vi dicono e poi se ci fosse stato un complotto del genere avrebbe dovuto coinvolgere moltissime persone e quindi prima o poi qualcuno avrebbe parlato no? è un argomento che i debunker usano molto spesso per cercare di rendere implausibili le tesi dei grandi complotti poi però quando queste persone saltano fuori e decidono di parlare loro li ignorano serenamente fanno finta che non esistano tecnica numero due appunto ignorare fatti appurati bene adesso ve le mostro io queste testimonianze fra l'altro stanno tutte in un mio documentario intitolato l'uomo che uccise Kennedy che Matrix ha mandato in onda nel dicembre del 2009 dieci anni fa ma forse Polidoro non guarda la televisione e sicuramente i suoi amici Ferrero e Verde Giglio si sono dimenticati di informarlo che questa trasmissione è già andata in onda loro sono rimasti alle discussioni del secolo scorso quelle sul melone e sul proiettile magico perché così è molto più facile continuare a raccontare favolette allora prima di vedere da vicino tutte queste testimonianze vi faccio il quadro generale di quello che è emerso perché è molto complicato da quello che risulta mettendo insieme i vari pezzi del puzzle viene fuori che Kennedy è stato ucciso per un concorso di motivi arrivati all'autunno del 1963 infatti Kennedy si era messo contro praticamente tutti i poteri forti si era messo contro la CIA dopo aver licenziato in tronco il direttore Allen Dulles per il fallimento della Baia dei Porci si era messo contro il complesso militare industriale perché voleva ritirare l'appoggio militare in Vietnam prima che si arrivasse all'escalation di una guerra vera e propria si era messo contro i grandi banchieri perché Kennedy voleva mettersi a stampare moneta di Stato e questo sicuramente non giova alla salute e poi si era messo contro la mafia dal momento in cui aveva messo il fratello Robert Kennedy al Ministero di Giustizia Robert Kennedy infatti si era messo in testa di combattere la mafia e questo voleva dire che anche l'FBI era contro i Kennedy perché il capo dell'FBI J. Edgar Hoover fino allora aveva convissuto pacificamente con la mafia c'era una regola non scritta per cui mafia ed FBI non si davano fastidio a vicenda ma da quando è arrivato Robert Kennedy al Ministero di Giustizia e quindi da quando Robert Kennedy è diventato il capo di Hoover perché l'FBI risponde al Ministero di Giustizia Hoover si è trovato fortemente imbarazzato a dover combattere le persone con le quali aveva convissuto pacificamente fino a quel momento Hoover infatti era ricattato dalla mafia perché era omosessuale e quindi aveva tutto l'interesse a non disturbarli invece con Robert Kennedy sopra di lui si è trovato obbligato a combatterli quindi per farla breve ora del 1963 i due fratelli Kennedy si erano messi praticamente contro tutto l'establishment di allora fu quindi una decisione collettiva quella di uccidere il presidente semplicemente perché era diventato necessario farlo dava fastidio a troppe persone l'operazione fu organizzata dalla CIA che utilizzava la mafia come braccio armato solo nei film di Hollywood infatti la CIA lavora per difendere il paese mentre nella mafia sono tutti brutti e cattivi nella realtà c'era allora e probabilmente c'è ancora oggi una forte zona di sovrapposizione fra le due organizzazioni una zona grigia nella quale i problemi comuni vengono risolti in modo comune senza fare troppo rumore e il problema Kennedy fu risolto proprio in quel modo con l'attentato di Dallas in particolare venne incaricata dell'omicidio la famiglia di Sam Jankana il famoso boss mafioso di Chicago il quale incaricò due dei suoi uomini Chuck Nicoletti e Johnny Rosselli di uccidere Kennedy a Dallas a sua volta Chuck Nicoletti si portò dietro la sua guardia del corpo James Files che fu quello che sparò il fatidico colpo alla testa di Kennedy dalla collina interbosa tutti i dettagli di questa operazione vengono descritti nel mio video l'uomo che uccise Kennedy che potete trovare anche su YouTube e nello stesso film potete trovare anche le altre testimonianze di cui vi parlavo che fra l'altro sono testimonianze incrociate che si confermano a vicenda e quindi diventano molto difficili da mettere in dubbio la prima di queste testimonianze è una delle più importanti è stata quella di Howard Hunt Hunt era un importante agente della CIA che è stato da sempre sospettato di aver partecipato all'assassinio ma che ha sempre negato ovviamente di essere stato a Dallas fino a che un giorno poco prima di morire ha deciso di lasciare una confessione registrata a suo figlio man mano che i protagonisti scompaiono aumentano anche le confessioni in punto di morte dei vari personaggi coinvolti che vanno ad aggiungere nuovi tasselli ad un quadro di rapporti trasversali sempre più complesso ma anche finalmente più logico e comprensibile è il caso ad esempio di Howard Hunt un noto agente della CIA già implicato nel caso Watergate che compare spesso nelle trame relative all'assassinio Kennedy prima di morire Hunt ha consegnato al figlio una confessione registrata in cui elencava i principali protagonisti del complotto che portò alla morte del presidente quindi Howard Hunt uomo della CIA confessa in punto di morte di aver partecipato l'assassinio Kennedy implicando anche altri due personaggi noti Sturgis e Morales Morales fra l'altro è stato visto anche nella hall dell'ambassador hotel a Los Angeles cinque anni dopo quando è stato ucciso Robert Kennedy il fratello del presidente ucciso a Dallas poi c'è la confessione di Chancey Holt il tipografo della mafia che preparò per la CIA i documenti falsi di Oswald un'altra confessione importante resa poco prima di morire è quella di Chancey Holt un tipografo ed esperto d'armi al servizio del boss mafioso Meyer Lansky che lavorava regolarmente anche per la CIA Chancey Holt è uno dei famosi tre vagabondi che furono arrestati a Dallas dopo l'omicidio e poi subito rilasciati nella sua lunga confessione Holt ha anche raccontato di aver preparato per la CIA i falsi documenti di identità utilizzati da Lee Harvey Oswald sempre nella stessa confessione Chancey Holt ha anche preso le difese di Oswald che riteneva ovviamente innocente anche Chancey Holt ha difeso Oswald che ritiene sia stato tradito dalla stessa CIA per cui lavorava fra l'altro Holt ha anche confermato nel suo racconto la presenza di Chuck Nicoletti a Dallas visto che ci sono andati in macchina insieme Riguardo invece alla presenza di Rosselli a Dallas l'altro mafioso la notizia ci arriva dallo stesso James Files che racconta che Rosselli arrivò a Dallas con un aereo della CIA riguardo alla presenza di Rosselli a Dallas Files ha addirittura indicato il modo in cui il boss mafioso arrivò in città e lo stesso pilota della CIA di quel volo che ovviamente non ha mai conosciuto né incontrato James Files ha confermato a sua volta sia la presenza a Dallas di Johnny Rosselli che è quella di Chuck Nicoletti la conferma in questo caso arriva direttamente dal pilota di quel volo Tosh Plum Lee che ha anche riconfermato la presenza di Nicoletti a Dallas quindi Files racconta di essere andato a Dallas con Rosselli e Nicoletti Chancey Holt che ovviamente non conosce Files conferma la presenza di Nicoletti a Dallas e Tosh Plum Lee il pilota che non conosce né Files né Holt conferma la presenza a Dallas sia di Rosselli che di Nicoletti capite che diventa un po' difficile smentire tutte queste testimonianze incrociate e poi c'è un'altra altrettanto importante che è la testimonianza di Marlene Brown Marlene Brown era l'amante texana di Johnson e ha raccontato che la sera prima dell'omicidio a Dallas ci fu una riunione importante a casa del petroliere Murchison amico e protettore di Lyndon Johnson il vice presidente pensate che la sera prima dell'omicidio a Dallas c'erano addirittura tre futuri presidenti americani Lyndon Johnson appunto Richard Nixon e George Bush e per non farsi mancare niente quella sera avvenne anche a Dallas un personaggio eccezionale che arrivava direttamente da Washington il capo delle FBI in persona J. Edgar Hoover pensate che coincidenze tutti a Dallas la sera prima a parlare di calcio ovviamente mentre l'assassino solitario Oswald si preparava tutto da solo ad uccidere il presidente il giorno dopo sentiamo la testimonianza di Marlene Brown c'è poi la testimonianza di Madeline Brown l'amante texana di Johnson che ebbe un figlio da lui rimasto segreto fino a poco tempo fa la Brown fu presente ad un misterioso party che si svolse a Dallas nella villa delle petroliere Martinson la sera prima dell'attentato quel giorno a Dallas erano presenti curiosamente tutti i maggiori nemici dei fratelli Kennedy c'era Richard Nixon che aveva appena perso l'elezione con John Kennedy ed ambiva rientrare al più presto in corsa per la Casa Bianca in seguito si sarebbe scoperto che Jack Ruby l'assassino che mise a tacere Lee Harvey Oswald lavorava per Nixon fin dal 1947 c'era Lyndon Johnson l'ambizioso vicepresidente che era stato imposto ai Kennedy da Edgar Hoover il capo dell'FBI e che veniva trattato da loro al pari di una cameriera a sua volta Johnson non faceva mistero del proprio disprezzo per i Kennedy che aveva più volte definito i rampulli della mafia irlandese c'era George Bush futuro direttore della CIA e futuro presidente degli Stati Uniti che aveva informato l'FBI della sua presenza in città con una lettera personale e quella sera giunse a Dallas con un volo privato da Washington lo stesso Edgar Hoover che i fratelli Kennedy chiamavano con scherno Bulldog a causa dei suoi continui scontri con Robert Kennedy allora ministro di giustizia Hoover sapeva bene che non sarebbe stato riconfermato alla direzione dell'FBI dopo la probabile rielezione di Kennedy l'anno seguente quando Hoover arrivò alla villa di Merchinson questi personaggi si appartarono per circa un'ora dopodiché Hoover ripartì in gran fretta per Washington alla fine dell'incontro Madeleine Brown fu avvicinata da Johnson che le appariva improvvisamente sereno e rilassato in seguito Madeleine Brown ha chiarito meglio la frase di Johnson quindi da una parte abbiamo le testimonianze incrociate che confermano la presenza a Dallas dei killer di Chicago Nicoletti Rosselli e dall'altra abbiamo questo meraviglioso party a Villa Murchison dove partecipa direttamente il direttore dell'FBI Hoover la sera prima e alla fine del quale Johnson confessa alla sua amante che da domani quei due figli di puttana cioè i fratelli Kennedy non saranno più un problema per me e manca ancora la testimonianza più importante che è proprio quella di James Files come ho detto prima la storia è molto complicata e il modo in cui si è arrivati a scoprire James Files lo è ancora di più la storia è tutta raccontata nel film L'uomo che uccise Kennedy qui in sintesi vi dico soltanto una cosa all'epoca Files aveva solo 21 anni ma era già un tiratore provetto non come Oswald che è riuscito a mancare un'intera limusine di 5 metri sotto la sua finestra Files invece sapeva sparare molto bene conosceva tutte le armi ed era stato addirittura addestratore per la CIA degli esoli cubani che tentarono l'invasione della Baia dei Porci per questo motivo Nicoletti se l'era portato dietro ed è lo stesso Files a raccontare perché prese la decisione di appostarsi dietro la straccionata sulla famosa collinetta erbosa la mattina stessa dell'attentato Nicoletti chiese a Files di fargli da tiratore di riserva Accompagnato da Rosselli Nicoletti avrebbe sparato dal Daltex Building l'edificio che sta accanto al famoso Book Depository da cui si può sparare con una traiettoria molto simile a quella della famosa finestra al sesto piano il compito di Files era di intervenire solo all'ultimo momento se Nicoletti non fosse riuscito a colpire il presidente alla testa e poi c'è il racconto decisamente agghiacciante di quello che Files ha visto nel mirino del suo fucile mentre aspettava il momento per sparare a Kennedy e a questo punto quando si è iniziato recettando down Elm Street le sciello iniziato a essere fuori da parte e ho assumo che era il nostro Nicoletti perché è il nostro che era in il bambino e ho saputo che Gianni Rosselli era lì e ho ricordato i sciello che si è iniziato e anche se il presidente era stato fuori con le ruote io ero considero un miss perché ho saputo che stavamo per un rischio sull'ultimo il presidente e ho saputo che aveva fuori in il corpo ma non sape che parte a che parte e ho saputo l'occhio e ho senti che la scuola e ho saputo che non ho non c'è il nostro signor Kennedy e il governo Conley si è stato con una ronda e non ho non c'è perché ho saputo Kennedy il tuo in il scope di fuori e quando ho arrivato il punto che pensavo che il terzo il fuori di fuori che 0 per la l'altra di di se se perché se non ci sono più lungo, la Jacqueline Kennedy potrebbe essere in la linea di fire, e ho stato instruccionato per nulla di fare. E, a quel momento, ho pensato questa è la mia ultima chance per il shoto, e ancora non aveva mai stato in fronte. Quindi, quando ho fired il round, Mr. Nicoletti e l'altro, ho avuto approssimativamente, al stesso tempo, quando ho avuto in fronte, poi ho avuto in fronte. Ho avuto a dire che il suo shoto ha avuto approssimativamente 1.000 secondi in fronte, magari, perché è quello che iniziò a spiegare avanti, che mi ha fatto perdere l'occhio in fronte, e ho venuto all'altra parte del tempio. Hai capito Polidoro? A cosa era dovuto il movimento della testa prima in avanti e poi indietro? Era dovuto al fatto che Nicoletti e Files hanno sparato quasi contemporaneamente, uno da dietro e uno da davanti. Altro che effetto melone, effetto cipolla, effetto carciofini. Fra l'altro, il fatto che Nicoletti abbia sparato dal Daltex Building, quello che sta di fianco al Book Depository, ci dà finalmente una spiegazione razionale per il famoso primo proiettile andato a vuoto. Perché se spari dal sesto piano del Book Depository, devi fare quella deviazione ridicola sul ramo per andare a colpire il marciapiede vicino a James Taig. Se invece spari da un piano basso del Daltex Building, allora sei praticamente già in linea di tiro con James Taig. Ti basta mancare la testa di Kennedy di un millimetro e il tuo colpo arriva direttamente a colpire il marciapiede del sottopassaggio. E si spiega anche perché il famoso proiettile fosse scamiciato, perché era partito dal fucile di Nicoletti che ovviamente era diverso dal carcano di Oswald. Vedete come tutto quadra non appena si introducono gli elementi mancanti del puzzle? Ora naturalmente quando è uscita questa confessione di James Files era talmente imbarazzante per i difensori della versione ufficiale che questi si sono affrettati a dire che Files era solo un mitomane che si era inventato tutto perché voleva diventare famoso. Ovviamente non è così. Prima di tutto se guardate il mio film L'uomo che uccise Kennedy vedrete che il giornalista che ha scoperto Files che si chiamava Joe West ci ha messo ben tre anni a rintracciarlo e quando l'ha rintracciato ha dovuto andare a trovarlo diverse volte in prigione prima di cominciare a parlare. Files era in prigione per una questione che non aveva niente a che fare con l'omicidio Kennedy ovviamente. e dopo la sua confessione James Files ha detto che non avrebbe mai più parlato con nessuno perché quello che doveva dire lo aveva già detto. A supporto della sua credibilità c'è inoltre il fatto che Files non abbia mai cercato la notorietà e che anzi all'inizio sia stato molto riluttante a parlare. Files ha anche dichiarato che da quel giorno non avrebbe più concesso interviste a nessuno. Quando Oliver Stone, autore del famoso film sull'omicidio Kennedy venne a sapere di Files gli chiese subito di intervistarlo ma Files rifiutò. Ho incontrato con Oliver Stone tre volte. E non avevi mai raccontato la tua storia? No, non avevo mai raccontato la mia storia e non avevo mai raccontato la mia storia con lui. Non avevo mai raccontato questo paper per l'accordo. Perché era questo? Non mi piace il ragazzo. Avete capito che razza di mitomane era Files? Intanto se ne sta zitto per 28 anni e aspetta che siano gli altri a trovarlo. E poi quando uno come Oliver Stone vuole intervistarlo lui si rifiuta e lo manda a quel paese. Ovviamente la spiegazione molto più logica per la sua confessione è un'altra ed è molto diversa. È quindi molto difficile sostenere che James Files sia un mitomane in cerca di pubblicità mentre è possibile che all'origine della sua confessione ci siano dei motivi molto più personali e profondamente umani. È quindi possibile che Files abbia approfittato dell'occasione che gli si è presentata, del tutto inaspettata per liberarsi in qualche modo di un peso che si portava sulla coscienza da troppi anni. ma con John F. Kennedy devo essere sincero, sì devo dire che ho un po' di remorse per lui perché non solo per lui ma per la sua famiglia e per i figli e tutto ma al momento in cui eravamo sentivo che ero certo in quello che stavamo facendo. Te capii Polidoro? Hai mentito sul fucile trovato accanto alla finestra nel Book Depository. Hai mentito sulle circostanze dell'arresto di Oswald. Hai raccontato la favoletta ridicola del melone. Hai spostato l'attenzione sul secondo proiettile ben sapendo che quello problematico è il primo. Nel frattempo, Howard Hunt ha confessato. Chancey Holt ha confessato. Martin Brown ha confessato. Tosh Plumlee ha confessato. James Files ha confessato. E tutti i dettagli di tutte queste testimonianze si incastrano alla perfezione fra loro. Il mio film è passato in televisione e sta su YouTube da diversi anni e tu fai finta che non esista e continui a raccontare al tuo pubblico che non è mai emerso niente di concreto a favore del complotto. Sai che c'è, Polidoro? Forse dovresti tornare da James Randi un'ultima volta perché c'è ancora un trucco che il tuo mago illusionista non ti ha insegnato. Quello della autosparizione. Perché dopo un video come quello che hai fatto tu sul caso Kennedy l'unica cosa dignitosa che potresti fare è quella di sparire e andarti a nascondere insieme a tutti i tuoi amichetti del chic-up. Voi vi approfittate del fatto che la gente non sappia certe cose che ovviamente non può sapere perché la gente ha altro da fare pur di continuare a raccontargli le vostre bugie. Questa è la verità. In chiusura vorrei ringraziare tre persone eccezionali che al tempo mi hanno aiutato moltissimo a studiare il caso Kennedy. Erano i responsabili del sito jfkennedy.it e sapevano veramente tutto quello che c'era da sapere su questo caso così complicato. Sono Simone Colzani, Ignazio Freschi e Giuseppe Sabatino. Simone Colzani nel frattempo è diventato un brillante avvocato. Ignazio Freschi ha scritto un libro sul caso Kennedy che si intitola Al di là di ogni ragionevole dubbio. E Giuseppe Sabatino, il terzo ricercatore, purtroppo non è più con noi. Pensate, è morto il 3 di gennaio del 2010, cinque giorni dopo la messa in onda del mio documentario su Matrix. Ma dal suo letto di ospedale ha fatto ancora in tempo a vedere la trasmissione e poi mi ha scritto ringraziandomi per il lavoro fatto e per aver fatto in tempo a vedere un po' di verità ristabilita sull'assassinio Kennedy. Bene, la puntata finisce qui. Torneremo a occuparci dei debunker più avanti con altre puntate speciali. Una ve la posso già annunciare. Si intitolerà Le Balle Lunari di Paolo Attivissimo e riguarda naturalmente le missioni Apollo. Per ora restiamo con i nostri tre appuntamenti settimanali su Contro TV. Il lunedì alle 21, le vostre domande a me e a Giulietto Chiesa. Il mercoledì, gli speciali di Contro TV. E il venerdì, sempre alle 21, le news della settimana con Giulietto Chiesa. Vi ricordo che le trasmissioni in streaming sono tutte in chiaro. Chiunque le può vedere sul sito Contro.tv. Poi, se volete darci una mano, con un solo euro al mese potete abbonarvi a Contro TV. L'abbonamento serve a noi ad andare avanti e permette a voi di accedere all'archivio con tutte le nostre puntate. Così, se vi perdete lo streaming in diretta, potete sempre rivederle nei giorni successivi. Grazie a tutti e ci vediamo venerdì.